Ciao, sono Pascuale Di Sabatino, ho 21 anni e sono un giocatore del Siracusa. Davide l'ho conosciuto due anni fa quando raffondi e in questi due anni abbiamo fatto un percorso veramente importante perché adesso sto giocando con continuità e soprattutto l'anno scorso dove sono stato fermo 5 mesi fino a gennaio. Da gennaio un po' sono rientrato con la giusta mentalità e per me lui è stato fondamentale per affrontare quei mesi al meglio. Quest'anno sto riuscendo ad esprimermi nel migliore dei modi e lo devo specialmente a lui perché tutte quelle cose su cui abbiamo lavorato in tutto questo tempo stanno dando adesso i suoi frutti. Io lo consiglio a tutte quelle persone che vogliono raggiungere degli obiettivi importanti nella propria vita.